Il Comune di Città Sant'Angelo, nell'ottica di incentivare il rilancio edilizio, ha messo in campo una delibera per fronteggiare la crisi attraverso incentivi, cessione dei diritti edificatori, monetizzazione totale o parziale delle aree a standard urbanistici. Abbiamo previsto delle misure per il recupero dei centri storici che prevedono delle agevolazioni fiscali degli incentivi per i proprietari degli immobili del centro storico che intendono effettuare questi lavori. In secondo luogo abbiamo previsto anche la possibilità dell'accessione dei diritti edificatori da parte del Comune. Questa è una possibilità che ci è stata data da una recente modifica legislativa e in questa maniera il Comune tenta di reperire risorse da reinvestire nelle opere pubbliche e dall'altro lato il cittadino che è interessato all'acquisto di questi diritti probabilmente farà degli interventi edificatori con un beneficio anche al settore. Poi c'è anche la possibilità per i privati di realizzare in maniera inferiore le opere di urbanizzazione con un'introintrazione da parte del Comune di somme. Il cittadino ha il vantaggio del privato di realizzare opere inferiori con un risparmio economico sempre rispetto ai minimi di legge. In questa maniera il Comune avrà le risorse per effettuare tutte le opere necessarie senza dover andare a gravare quella in posizione diretta sui cittadini. Iniziativa appoggiata da Ance Pescara Questa è un'iniziativa del Comune di Città Sant'Angelo che noi apprezziamo e che abbiamo già avuto modo in altre occasioni di sottolineare questa amministrazione che comunque con ogni mezzo a disposizione cerca in tutti i modi di dare lancio a questo settore. Non possiamo stare qui ad aspettare che la crisi ci travolga come già ci ha travolto. Dobbiamo cercare comunque in qualche modo di sgomitare per cercare di uscire. Se non ce la facciamo noi, nessuno ci verrà a salvare. Grazie. Grazie.